Logico Logico Si è 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 logico Allora un applauso di tutta l'Emilia Romagna al premio al segretario nazionale Fittima Florenzi e al nostro candidato Stefano Morazzini Matteo ti presenta Alessio Ci siamo presentati è un grande amore Stefano lo conosciamo bene Bene Improvvisiamo qui due secondi solo E Ma sta fatto col Koala Perché non con un kanguro Partiamo dalle cose Prendilo in collo del kanguro Volevo Io Al di là delle battute volevo dire C'è una sensazione strana quando si torna tra tanti amici che è quella di di tornare a casa di tornare tra la gente che ti accompagna anche quando sei chiuso in un palazzo Allora Credo che dal profondo del cuore grazie per questo affetto e dall'altro lato però non c'è neanche 30 secondi per l'emozione perché qui c'è da fare campagna elettorale Tanto comunque vada la campagna elettorale se vinciamo bene eh però mancava un po' di troppa stensione se vinciamo eh però doveva importarli non saranno mai contenti loro però cerchiamo di essere contenti noi domenica e di votare Stefano Vai Stefano a te la parola a Stefano la parola però voi sapete che si è fantasticato sui mezzi anzi diciamo anche col premio si è fantasticato sui mezzi di locomozione quest'uomo aveva una SEAT Ibiza che ha distrutto a forza di 345.000 km si è anche addormentato e poi dopo non contento ha detto sai cosa faccio? ne faccio più di 20.000 in camper e avanti così qui SEAT, camper, boom e praticamente ventre a terra quest'uomo riesce a conoscere quasi tutti i 1.200 comuni delle Emilia Romagna sono 1.2 no, sono 3.40 3.40 volevo vedere se era a te no, era fatto apposta per vedere se ha trekking di Bonaccini molto bene ora noi avevamo anche pensato di fare una grande narrazione vendogliana modello vendola per vedere quali sono l'Emilia Romagna eccetera però c'è qualcuno che ci ha pensato per noi lo vediamo in video l'ascoltiamo in video che cos'è l'Emilia Romagna guardiamo insieme si vi sedete qui dove non si vede niente esattamente qui esattamente qui la casa la casa di piedi in questa spianata di sole che strozza la gola alle rame di nebbia compatta, scabrosa, stirata che sembra di pallone ed una strada antica come l'uomo marcata ai porti